Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo dare degli aggiornamenti sulle mie semine delle piante grasse. In giro di 10 giorni ho già spuntato qualcosa, ora ve le mostro e poi volevo rispondere a delle domande che mi sono state fatte nei commenti e che effettivamente non ho dato spiegazioni su come fare dopo una volta seminati. Intanto vi mostro che cosa è uscito, che sono felicissima, neanche pensavo di riuscirci. Comunque l'avevo detto, escono a tutti e devono uscire per forza anche a me. Vabbè, adesso ve li mostro. Allora, li ho seminati il 23 d'aprile, va bene, l'avevo scritto in maniera che mi ricordavo quando avevo fatto questa cosa. Oggi è il 4 di maggio, quindi sono passati 11 giorni. Adesso vi faccio vedere se riesco ad aprirli con una mano. No, un secondo. Allora, la situazione è questa. Più che cactus mi sembrano, non li metto a fuoco, perfetto, c'è stato un sole così fino adesso. Ecco, più che cactus mi sembrano delle piante succulente, perché non ci sono spine, non dà un segno di cerchiolino, ma più di foglia. Questi sono i semi del brico. Vedete, sono di questo colore. Vediamo se riesco ad avvicinarmi. Ecco. Mi danno più senso di foglia che di cactus, qualcosa senza spine. Mentre nell'altra bustina c'è soltanto un accenno di quel pirurino verde lì. Per il resto tutto tace, non c'è niente di che. Allora, quando si seminano queste cose generalmente si usa un semenzario e che serve appunto per velocizzare la nascita dei semi. Quindi ci si può mettere dentro qualsiasi tipo di seme. In questo caso bisogna poi continuare a mantenere una certa umidità. Quindi mettiamo i semi, li ricopriamo, spruzziamo con lo spruzzino, quindi nebulizziamo e chiudiamo. In maniera che il barattolo chiuso mantenga una certa umidità costante e tra virgolette un calore artificiale che produce essendo ermetico, tra virgolette. Questi barattoli non sono ermetici. Quindi magari un pochettino d'aria sottile sottile passa. Comunque il barattolo deve essere chiuso e quando poi ci rendiamo conto che la terra si asciuga non deve essere zuppa perché sennò poi marcisce sottovuoto io continuo a dire sottovuoto comunque è chiuso e marcirebbe tutto. Quindi deve essere umida, non zuppa, quindi anacquata e quando ci rendiamo conto che il terreno si asciuga dobbiamo spruzzarlo per tenerlo umido. E di tanto in tanto non dico tenerli sempre chiusi però magari anche solo capire il coperchio non guasta in senso si può fare, non è che devono essere chiusi e basta. Non mi viene in mente nient'altro di cosa mi avete chiesto e quindi niente buchi nel coperchio e neanche buchi sotto. Il terreno deve rimanere soltanto umido. Come terreno deve essere una cosa molto drenante, molto soffice e che evapori tra virgolette anche perché rimarrà chiuso lì dentro quindi deve formare dell'umidità in maniera che il terreno rimanga sempre umido e non zuppo. Io ho messo del terriccio universale, della sabbia di fiume e della perlite, ma per chi non ha la perlite va benissimo anche solo terreno e sabbia in quantità più sabbia che terra. Adesso qua è scuro perché l'ho bagnato quindi è bagnato, non è che l'ho bagnato io e quindi rende poco. E cos'altro? Vi aggiornerò nei prossimi giorni se cresceranno ancora e poi una volta che sono di una misura che riescono a stare da soli, diciamo, che non hanno bisogno di questa umidità per crescere li passerò dentro un vasetto magari tutti insieme o di quelli bassi. Ah! Hanno bisogno di luce quindi non sotto il sole a mezzogiorno ma anche solo dietro a una finestra che prenda luce va bene. E cos'altro? Adesso pian pianino mi vengono in mente cosa avete scritto nei commenti e che rispondere così magari si capisce di più che scrivere a parole. E niente. Spero di aver detto tutto se no vi stresserò con un altro video e vi dirò quello che vi devo dire. Io vi ringrazio per la pazienza e la visione e ci vediamo domani. Ciao ciao!